Così come altri punti del vulcano solfatare di Pozzuoli, dove il 12 settembre 2017 morirono asfissiati nel sottosuolo Massimiano Carrer, la moglie Tiziana Zaramella e il figlio Lorenzo, anche l'area della cosiddetta spianata era pericolosa e soprattutto priva di qualsivoglia autorizzazione in sostanza abusiva. E quanto sostengono gli esperti nominati dal Tribunale di Napoli nella perizia realizzata per far luce sulla tragedia della solfatare. Conclusioni contenute in 240 pagine, dove tra l'altro emerge in modo chiaro che l'area della cosiddetta spianata era visitabile e fruibile da parte degli avventori, senza che fosse stata rilasciata alcuna autorizzazione che in qualche modo avrebbe potuto dare luogo a controlli preliminari. Il fenomeno dell'apertura della cavità sottostante nella zona della cosiddetta fangaia era dunque prevedibile, secondo i periti ascoltati dall'autorità giudiziaria, se fossero stati realizzati studi sulla valutazione dei rischi. Studi che però non potevano essere commissionati per un'area che secondo quanto finora emerso era abusiva. L'ultimo dei periti ascoltati ha inoltre ricordato che un cartello posizionato nei pressi di una fumarola ricordava l'effetto Viagra che i gas potevano innescare se inalati, quando invece in determinate condizioni quel gas, l'idrogeno solforato, poteva essere irritante in determinate concentrazioni addirittura letale. La parola ora passa agli inquirenti che potrebbero emettere a breve gli avvisi di conclusione indagini.